Nove ragioni molto intelligenti per cui le persone fanno figli anche se non li possono mantenere per tutta la vita, cosa che poi dovrebbe essere il pre-requisito essenziale per farli. La prima, o facevamo un figlio o ci lasciavamo e poi si lasciano comunque. La seconda, così se ci lasciamo mi dovrà mantenere anche se non ho un lavoro e non ho un lavoro perché non sono capace a fare un cazzo. Questo vale per le donne e per gli uomini, non soltanto per le donne. Ovviamente. La terza, perché una donna o un uomo non sono completi senza un figlio. La quarta, perché le mie amiche o i miei amici ce l'hanno già. La quinta, perché i miei genitori volevano tanto diventare nonni. La sesta, perché così quando morirò una parte di me rimarrà nel mondo e con Narciso in confronto odiava se stesso. La settima, perché un figlio ti mantiene giovane. L'ottava, perché lo costringerò ad avere successo dove io ho miseramente fallito. E questo è per i papà aspiranti calciatori o per le mamme aspiranti attrici. La non è ultima e questa è anche la più altruistica di tutte, perché quando sarò vecchio mi accudirà. Aspetta e spera, come si dice. Bene, questo è tutto. Ovviamente il video non può essere esaustivo per ovvie ragioni, quindi se ti vengono in mente idee ancora più cretine per mettere al mondo un figlio, fammi sapere nei commenti. E mi raccomando, questo messaggio è molto serio. Fai un figlio solo ed esclusivamente se puoi mantenerlo per tutta la vita. Non costringerlo per il tuo egoismo a una vita di schiavitù a pulire i cessi a tre euro all'ora.